Musica Ben ritrovati al quinto mercato della terra della biodiversità San Giorgio Canavese inizia il nostro viaggio con i produttori che sono qui presenti e abbiamo un produttore che se non erro è la prima volta qua è la prima volta che veniamo qua a San Giorgio dal nostro amico Ivano noi arriviamo dal Friuli, io mi chiamo Arnese Donato e faccio parte dell'azienda agricola Arnese Rossimelle noi produciamo uno dei nuovi presidi del Friuli Venezia Giulia che è il fagiolo antico di San Quirino è una vecchia varietà di 150 anni fa del nostro paese e noi sembrerebbe siamo rimasti gli unici in paese ad avere ancora questo tipo di fagiolo lo coltiviamo come veniva coltivato a quei tempi dai nostri nonni è un fagiolo molto ricco di farina e fibre si usa soprattutto in Friuli per fare la pasta ai fagioli oppure si può usare anche per fare un'ottima crema di fagioli di fatti oltre ai fagioli avete anche dei prodotti già pronti a base di fagioli praticamente grazie alla caratteristica di questo fagiolo che è molto farinoso noi riusciamo a fare anche la pasta sempre un mix di 80% farina di grano duro e 20% farina di fagioli e facciamo anche grissini con sempre farina di fagioli e grani antichi FWG e inoltre facciamo anche una crema spalmabile di cioccolato, miele e fagioli che è quella che ti ho fatto assaggiare prima niente, questa è un po' la particolarità del nostro fagiolo sostanzialmente saranno qua tutto il giorno, venite a scoprire i loro prodotti a presto